Buonasera, buonasera a tutti, benvenuti ad Attenti al Lupo. Stasera parliamo della casa, della proprietà immobiliare. Davvero c'è un rilancio delle compravendie al settore immobiliare, che rischi ci sono e soprattutto che opportunità. Ve le racconteremo questa sera con i nostri ospiti che vi presento il presidente italiano degli agenti immobiliari professionali, presidente della FIAIP, Gian Battista Baccarini. Buonasera presidente e buonasera all'avvocato Fabio Pucci, segretario generale del Luppi, Unione Piccoli, proprietari immobiliari. Ma come sempre partiamo da una lettera. Buonasera Melania Giocò. Buonasera a te Giuseppe, un saluto ai nostri ospiti, un saluto a voi telespettatori che ci seguite da casa. Subito ricordiamo come entrare in diretta e in contatto con noi, numero verde 800 508 990, numero gratuito anche per i cellulari, email attentiallupo.it e naturalmente i social. Siamo operativi già da adesso, su Facebook e su Twitter basta cercare la pagina di Attenti al Lupo. Andiamo subito Giuseppe a prendere la lettera del telespettatore, telespettatrice che ci ha scritto. Io vi ricordo che noi siamo in via Aurelia 796 a Roma. Ci scrive Michele, gentile redazione, io e mia moglie stiamo pensando di cambiare casa. La nostra, comprata quando ci siamo sposati, sta diventando un po' troppo piccola ora che in famiglia siamo in quattro. Ma i dubbi sono tanti anche perché abbiamo visto che adesso i prezzi delle case sono molto più bassi rispetto a quando abbiamo comprato noi. Ai vostri esperti vorrei chiedere, è un buon periodo questo per vendere o c'è il rischio di rimetterci dei soldi. Se vendiamo possiamo continuare a detrarre dalla dichiarazione dei redditi le spese sostenute per la ristrutturazione oppure perdiamo il diritto a questa agevolazione? Questa è la domanda di Michele da Bologna. E allora subito la domanda, è un buon periodo per vendere e acquistare? Baccarini, partiamo da lei. Sì, è un buon periodo perché come si diceva nella lettera i ragazzi, i signori devono vendere perché hanno una casa piccola e quindi probabilmente compro una casa più grande e quindi è vero che i valori si si sono abbassati, quindi sono calati, però vendendo una casa piccola a un prezzo diciamo più basso rispetto magari a quando l'hanno comprato, vanno a comprare una casa più grande ma proporzionalmente anche la casa più grande è calata di valore e quindi ovviamente quello che vanno tra virgolette a perdere nella vendita lo vanno a riacquisire con gli interessi nell'acquisto. Quindi assolutamente se fanno il cambio diciamo da una casa piccola a una casa grande è sicuramente vantaggioso. Pucci, conviene sempre se è la prima casa in pratica? Sulla prima casa uno compra e vende bene o male insomma anche se ci vede qualcosa sulla prima piaccia che ha acquistato? Le agevolazioni sono sempre le stesse quindi è conveniente ovviamente comprare una prima casa. Maggior ragione adesso che ne comprano una più grande quindi le agevolazioni sono diciamo così importanti. È un buon periodo anche per quanto riguarda il mutuo, subito entriamo perché magari la gran parte delle persone acquista l'appartamento con un mutuo. I tassi qual è la situazione in questo momento? Questo è un ottimo periodo perché i tassi per il momento sono fermi e sono bloccati quindi c'è sempre la scelta se farlo a tasso fisso o a tasso variabile. Io suggerirei in questo momento siccome si prendono mutui anche a 20 anni e anche a 30 anni molto probabilmente oggi come oggi per essere un po' più sicuri stipulare un mutuo con un buon tasso ma a tasso fisso. A tasso fisso. Chiaramente questo vale anche nel caso della signora perché non solo di chi acquista il primo appartamento magari quando è giovane ma se uno in una fase più matura della propria vita vende e acquista anche lì funziona nella stessa maniera. Assolutamente sì e poi se uno acquista come prima casa delle agevolazioni anche in termini di imposta sostitutiva quindi nell'ambito diciamo della tassa applicata al finanziamento e oggi ma lo ha dichiarato Draghi con la fine del quantitative easing comunque rimangono la liquidità sarà garantita quindi i tassi rimarranno sicuramente a ribasso anche perché la banca centrale europea ha garantito che continuerà ad acquistare i titoli di Stato attraverso il capitale rimborsato di quelli in scadenza quindi sicuramente ancora per quest'anno e il prossimo anno rimarranno bassi. Un modo per rivitalizzare, cercare di rivitalizzare l'economia europea dei paesi europei. Assolutamente. Voi avete fatto come Fiaip una fotografia, avete scattato sulla situazione, che cosa sta succedendo? Nel senso che c'è una ripresa del mercato delle compravendite dopo un periodo che è stato possiamo dire terribile, non solo per voi che operate ma insomma anche per chi doveva vendere il proprio appartamento o chi doveva comprare, insomma è stato un momento abbastanza difficile nel mercato immobiliare, diciamo che non c'era proprio gente che andava a comprare la casa perché c'è stato un periodo di crisi, ma c'è un risveglio o insomma è solamente un qualcosa di illusorio? Ma questo è il quinto anno consecutivo che aumentano il numero delle compravendite e questo è un dato sicuramente positivo. A fronte ovviamente di valori di mercato che sono scesi, infatti il nostro report presentato dal centro studi nazionale FIAI pochi giorni fa ha proprio testimoniato questo, ha registrato un meno 2,5% di valori di mercato in meno, quindi come calo generale e questo secondo me è il vero problema, perché nonostante aumentano il numero delle compravendite calono i valori di mercato, secondo noi perché molto semplicemente c'è un'offerta più ampia rispetto alla domanda quindi ovviamente i valori tendono a calare, ma questo perché c'è una reddittività incerta, abbiamo una fiscalità eccessivamente esosa e complessa e quindi va fatta una riforma organica su questo. E ne parleremo tra pochissimo della pressione fiscale sulle abitazioni. Avvocato Vucci, ma è così in tutta Italia? Cerchiamo poi i dati che ci suggeriva Baccarini di snocciolarlo. Le grandi città, Roma, Milano, Palermo, Napoli, lì Torino, sono città dove i prezzi delle case sono sempre gli stessi o c'è ormai una situazione a macchia di leopardi o anche nelle grandi città, magari le periferie i prezzi si sono abbassati, al centro di queste città delle grandi metropoli i prezzi sono sempre molto alti, alla fine nessuno ha visto un cambiamento, una modifica rispetto al passato. Volevo chiudere perché ho dimenticato la terza domanda fatta dal telespettatore, cioè vale a dire sul fatto del problema legato alle ristrutturazioni e quindi alla possibilità comunque di agevolazione fiscale. Sì, certamente può avere ancora le agevolazioni nonostante che abbia venduto. Detto questo, è un po' a macchia di leopardo in questo senso, adesso ci sono delle città che hanno avuto anche per delle scelte di carattere, chiamiamolo politico, parlo ovviamente di Milano, stanno avendo effettivamente un grandissimo rilancio dal punto di vista immobiliare. I prezzi non solo tengono, stanno tenendo, ma addirittura stanno salendo. Roma si mantiene, prendo le grandi città perché sono quelle più indicative. Poi parleremo anche dei piccoli città, mi è interessante, ma partiamo dalle grandi città. Così Roma che tiene, Napoli che è uscita dal 2018 con un forte impulso, Firenze che è pure un'altra città, cosiddetta d'arte così come Venezia, che mantengono naturalmente le loro posizioni. E spostiamoci dalle grandi città ai piccoli centri, perché poi l'Italia è fatta anche di tanti piccoli centri. Lì che cosa avete riscontrato voi? Com'è la situazione delle case? Sono crollati i prezzi nelle piccole città? Sì, i piccoli centri hanno sofferto, hanno sofferto per tante ragioni, ma sicuramente il tema delle città d'arte, delle città capoluogo, delle grandi città è legato al fatto all'amministrazione comunale che hanno avuto un piano strategico in termini di rigenerazione urbana. Milano su tutti ha avuto l'Expo 2015 e ha attuato appunto una pianificazione incentrata proprio su una visione integrata delle politiche urbanistiche. Questo ha consentito di avere un'attrattività diversa. A ciò si associa anche le locazioni turistiche, le locazioni breve. Possiamo dire che molte case in queste città d'arte sono diventate dei bed and breakfast. Ormai, anzi, qualcuno si lamenta perché dice che ormai il centro delle città sono tutti bed and breakfast per i turisti. Però insomma questo ha dato il via a una ripresa del mercato immobiliare, a un rilancio. È una leva importante che va salvaguardata. Infatti noi vogliamo attenzionare al legislatore, essendo una materia regionale, quella del turismo, attenzione ad andare a colpire, a riempire di vessilli, di burocrazia, di adempimenti, di oneri, questo segmento, quello delle locazioni breve, che è un segmento che sta riportando l'investitore a riacquistare la casa appunto per affittarla perché dà una redditività molto alta, una flessibilità in termini di vendibilità e poi consente di avere un rischio locativo di morosità presso che azzerato. Le domande da casa. Allora Giuseppe, domanda pratica, email di Danilo da Roma, lui ci dice sapreste indicarmi in percentuale di quanto potrei abbassare il prezzo di richiesta di un immobile che ho intenzione di comprare? Lui dice su una casa nuova per cui mi richiedono 540 mila euro, posso offrirne 4,40? Lo chiediamo al presidente degli agenti immobiliari, chiaramente. A noi diciamo come rappresentanti degli agenti immobiliari non piace questa dinamica, nel senso che sostanzialmente la cosa importante e fondamentale è centrare il valore, cioè affidarsi ad un agente immobiliare professionale che faccia una valutazione di mercato congrua allineata appunto al mercato che contempli tutto il controllo della documentazione di disurbanistica catastrale di provenienza condominiale, cioè il prezzo è dato non solo da quanta gente disposta a comprare quel tipo di immobile ma anche se tutto in regola a livello documentale. Abbiamo detto la pressione fiscale su una casa, su un appartamento, ma quanto pesa? Sentiamo un commercialista, Nicola Forte. Dovendo fare la dichiarazione dei redditi, che cosa possiamo inserire per quanto riguarda la casa, l'abitazione e il condominio? Beh, dobbiamo innanzitutto considerare che l'abitazione principale, la dimora, cioè dove abito e i finirpef è completamente detassata. Dobbiamo anche considerare che gli immobili su cui grava l'IMU, se non concessi in locazione, non si applica l'IRPEF. La pressione ovviamente aumenta se questi immobili sono concessi in locazione. Se io ho l'abitazione principale che è stata acquistata con un mutuo, gli interessi passivi relativi al contratto di mutuo utilizzato, il mutuo per acquistare l'abitazione principale, possono essere considerati in detrazione con un massimale di 4.000 euro, il 19% su 4.000 euro. Queste le indicazioni, perché è anche la stagione della dichiarazione dei redditi di Nicola Forte, però volevo capire, proprio sulla pressione fiscale e su queste detrazioni dall'avvocato Pucci, ma insomma alla fine è talmente elevata questa pressione fiscale o attraverso le detrazioni, le opportunità che abbiamo di scaricare qualcosa nella dichiarazione dei redditi, alla fine conviene sempre. Che l'investimento immobiliare convenga sempre sono dell'idea che darei una risposta positiva. Sul fatto della fiscalità sugli immobili, beh, qualche perplessità ce l'avrei, cioè noi abbiamo circa 40-45 miliardi di euro l'anno che il comparto immobiliare dà allo Stato. Insomma, non mi sembra una tassazione poco forte. Cioè quello che è impossibile detrarre è poco sostanzialmente, c'è una minima parte rispetto ai costi che deve affrontare un proprietario. Per la proprietà sì, cosa diversa forse con l'affitto, perché adesso anche con l'ultima sentenza della Corte di Cassazione, questo è importante dirlo, anche ai proprietari immobiliari si possono scaricare adesso i muetasi sul contratto di locazione. Quindi quando si, mentre prima non era possibile, adesso questa sentenza della Corte di Cassazione dell'aprile-maggio del 2019 dà questa opportunità. Quindi questo significa forse un incentivo maggiore per l'allocazione. Ed ora arriviamo al momento del vero-falso e si parla di un elemento di cui si discute sempre quando si va a fare magari un mutuo, no? Ma Melania è così? Proprio così, il vero-falso di questa sera, ovvero l'affermazione con cui lasciamo prima della pubblicità, recita così, quando si chiede un mutuo per la casa è obbligatorio stipulare una polizza sui danni da scoppio e incendio. È vero-falso secondo voi? La risposta dopo la pubblicità. Entriamo in studio, stiamo parlando della casa, da sempre la più amata dagli italiani, insomma l'appartamento, l'immobile, anche se ci sono questi aspetti fiscali di cui parleremo tra pochissimo, che pesano e non poco. Ma Melania, allora qual era l'affermazione? Era questa, ci siamo lasciati con questa affermazione. Quando si chiede un mutuo per la casa è obbligatorio stipulare una polizza sui danni da scoppio e incendio. Andiamo a vedere se è vero o falso. Avvocato Fucci. Per me è vero. È vero, quindi è vero queste affermazioni. Le chiedo però, perché discutevamo durante la pubblicità, c'è una richiesta di case vecchie, diciamo, non vecchie fatiscenti, ma insomma di vecchia data, antiche. Perché rispetto a quelle nuove? In questa crescita della... Perché si può risparmiare? Nell'ambito delle transazioni, cioè appunto questa peculiarità e questa particolarità, l'immobile, chiamiamolo vecchio, oltre 5 anni, 10 anni, 15 anni, ha un valore inferiore rispetto a quello nuovo. Quindi chi va a investire, se vuole investire naturalmente, investe più sull'appartamento vecchio che su quello nuovo. Quale può essere una chiave di interpretazione di questo aspetto? Oggi ci sono, oggi già da 20 anni, ma quest'anno ci sono le detrazioni fiscali, incentivi fiscali che sono state riconfermate, in parte anche ampliate e inerenti interventi di riqualificazione e risparmio energetico. Quindi se io compro un immobile da ristrutturare, posso usufruire di detrazioni fiscali dal 50 al 65% per la singola unità immobiliare, ovviamente con un massimale di lavoro, ma salgono addirittura al 75% per certi tipi di interventi in condominio e fino all'85% per certi lavori di interventi di riqualificazione energetica assieme al sisma bonus, cioè a interventi di riduzione del rischio sismico. Quindi c'è un rientro dei denari in 10 anni se uno efficiente al proprio immobile. Melania, ancora delle domande da casa? I mail di Gianluca dalla provincia di Milano. Ho un appartamento, vorrei venderlo perché l'ho acquistato nel 2007 e non ha l'ascensore. Perderei a questo punto circa il 40%. Secondo voi devo aspettare ancora che risalga il mercato? Oppure posso già vendere? Baccarini, che cosa possiamo dire a questo nostro telespettatore? Ma è il concetto un po' di prima, nel senso se uno deve vendere per vendere, secondo me non è il momento opportuno perché i valori sono scesi, a meno che non ci siano esigenze individuali che ti costringano, faccio fatica a pagare il mutuo, ti costringono a vendere per tornare in affitto. Se invece uno vende per riacquistare, soprattutto se vende una casa che vale meno e ne compra una che vale di più, non solo è il momento opportuno ma conviene farlo perché proporzionalmente ha un interesse economico. Le tasse, la pressione fiscale anche a livello locale da parte dei comuni, qual è la situazione e che cosa si prospetta? L'abbiamo chiesto al delegato alla finanza locale del Lanci, il presidente dell'IFEL, Guido Castelli. Stiamo valutando quanto e come i comuni italiani stiano nei limiti del possibile utilizzando la leva fiscale che come è noto è stata sbloccata dalla legge di bilancio per il 2019. Noi abbiamo ragione di ritenere che tuttavia il temuto aumento non ci sia anche perché generalmente i comuni ahimè hanno già fra il 2012 e il 2015 già attivato al massimo la leva fiscale. Quindi l'auspicio è che questa cosa non accada ma l'auspicio soprattutto è che si riformi la finanza locale perché quello che è successo nel 2012-2013 proprio a carico del patrimonio immobiliare degli italiani è stata una pagina molto grave e dolorosa. Concretamente che cosa è possibile fare per venire incontro alle persone che hanno difficoltà a pagare le tasse, ad esempio i moltasi? Non è facilissimo anche perché in alcune zone d'Italia come è noto la riscossione delle tasse comunali è purtroppo molto complessa, la Tari in molte parti d'Italia viene pagato dal 15-20-25% delle persone in qualche misura succede anche per l'Imu, in realtà l'obiettivo sarebbe quello di tenerle basse le tasse e di fare in modo che dunque tutti pagassero nella misura giusta. Purtroppo questa cosa non è sempre possibile perché ricordo un dato che è sorprendente fino al 2011 gli italiani, possessori di immobili, pagavano complessivamente 9 miliardi e 200 milioni di ICI. Poi quando il governo Monti ha introdotto la vera e propria patrimoniale denominata Imu siamo arrivati a 23 miliardi e 8, quindi c'è stato un accanimento eccessivo nei confronti delle proprietà immobiliari e purtroppo a cascata questa cosa ha prodotto anche delle conseguenze che sono andate a detrimento di tutta l'economia. La crisi dell'edilizia è stata anche determinata da questa esasperazione fiscale da cui dobbiamo uscire con mitigazioni fiscali. Per farlo però bisogna riordinare la finanza locale perché i comuni hanno bisogno di risorse, i trasferimenti non esistono più. Dopo il 2012 è stata prospettata questo meccanismo di alimentazione dei comuni tutto sulla Imu, in pratica che è il vero tema insieme a pochi altri che consente di finanziare i comuni. Insomma, dice in qualche modo Castelli, il presidente Liefel, insomma una patrimoniale già c'è sulla casa perché si discute ogni tanto e esce questa patrimoniale quindi insomma sembra scongiurata, però dice bisogna riordinare questa finanza locale altrimenti è un caos. Cosa ne pensa Baccherini per quanto riguarda il comparto immobiliare? Assolutamente sì, quello che abbiamo sentito è esattamente la prova che aumentare le tasse non determina una lotta all'evasione fiscale, non determina un maggiore intendimento alla legalità non favorisce la legalità, ma al contrario i dati che abbiamo noi sono che un italiano su 5 non paga i mutasi ci sono 12 milioni di immobili completamente sconosciuti al fisco e c'è un tax gap, c'è un differenziale tra il gettito reale e il gettito potenziale di i mutasi che cuba 4,2 miliardi. Quello che si dovrebbe fare è riordinare e stabilire, introdurre una flat tax per tutte le tipologie contrattuali in ambito locativo, cioè io pago meno, pago certo, quando è stata introdotta la cittadale secca nel 2011 questa ha consentito una riduzione del 40% dell'evasione tributaria, del 42% della propensione al neadempimento e ha aumentato la tax compliance, cioè l'adesione volontaria agli obbligo tributari. Avvocato Fucci, una battuta, 9 capologhi su 10 hanno al massimo il livello fiscale sull'abitazione quindi c'è poco da aumentare. Ma io vorrei fare solamente una domanda, una battuta, una battuta. Che differenza c'è tra l'Imu e la Tasi? E lascia così, appesa il tutto. Lascia così, perché siccome... Si fa una domanda e si deve dare anche una risposta a lei come segretaria nazionale del gruppo. La Tasi è un'altra piccola Imu, cioè sono due tasse... Beh dovrebbero andare ai servizi, i soldi della Tasi dovrebbero in qualche modo andare a migliorare i servizi. Ma anche l'Imu, cioè voglio dire, quando si è tolto l'Imu sulla prima casa ed è stata inserita poi la Tasi, tutto sommato questa patrimoniale non è mai uscita, è rimasta sempre lì. Ora spero e mi auguro che in Europa... In realtà dovrebbero poi andare a finanziare tutto questo settore immobiliare, dei servizi. In realtà spesso invece vanno a finire nel calderone dei comuni per pagare un po' tutto. Io non parlo di coloro i quali evadono al 100%, io parlo di coloro i quali non hanno i soldi per pagare e non possono evadere perché l'agenzia delle entrate è dietro la porta. Quindi se non pagano aggrediscono il bene, aggrediscono la macchina, aggrediscono... Vediamo le domande che arrivano da casa per cercare di dare una risposta un po' a tutti. Maria da Palermo ha due case, in una ci abita col marito, nell'altra ci abita il figlio che non versa loro alcun affitto. A che detrazione ha diritto? È molto tecnica questa cosa, vediamo se riusciamo a dare una risposta. In qualche modo, avvocato, ci sono delle detrazioni quando nella seconda casa c'è il figlio? Sì, no, un momento. C'è la possibilità di detrare fino al 50% sull'Imo, la possibilità se nella casa di proprietà del genitore abita il figlio, con un contratto di comodato ci può andare il figlio e avere delle detrazioni, questo sì. Ancora domande? Pietrina da Milano ha ereditato la casa dalla mamma. Questa casa è a Lecce. Dice, io sono anziana, ho 80 anni, non riesco a seguire proprio l'iter della vendita. Come mi devo comportare, considerando che è una vendita a distanza, Milano-Lecce? Bisogna assolutamente affidarsi a un'agenzia immobiliare che opera a Lecce, ovviamente verificare che questa agenzia adotti una modalità operativa che sia orientata alla massima trasparenza e linearità. Noi come federazione abbiamo adottato un modello che si chiama UnaFIAIP, che è un modello professionale di riferimento, che va in quella direzione, cioè di mettere sul mercato i mobili preventivamente controllati al giusto prezzo. Una battuta, a proposito di case a distanza, case al mare e in montagna, lì che cosa sta accadendo? Vale ancora la pena fare un piccolo investimento se uno ha qualche spicciolo da parte? Assolutamente sì, dipende dall'ubicazione, ovviamente nelle città più quotate, nelle aree più quotate, come dicevo con le locazioni brevi, con le locazioni turistiche, c'è anche una grande opportunità di avere una reddittività certa e riconoscibile. Insomma il turismo mi sembra che stia trainando un po' tutto il settore immobiliare. Grazie ai nostri ospiti, grazie al presidente della FIAIP, la Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali, Gian Battista Baccarini e grazie al segretario generale dell'Uppi Unione Piccoli Proprietari Immobiliari, l'avvocato Fabio Bucci. Melania, per stasera è tutto. Per stasera è tutto, vi diamo appuntamento a domani, sempre in diretta ore 19 sul TV 2000, attenti al lupo, si occupa di insalate, insalate fresche, sfuse, insalate in busta, voi quali acquistate, quali preferite? Tutte le risposte domani, ore 19, non mancate. Grazie a tutti. Grazie a tutti.